audio dipendenze un podcast per radio spacciatori di libri ancora un appuntamento con la rassegna qui altrove le città degli altri casa è dove qualcuno o qualcosa ti aspetta raccontiamo le città raccontate spacciamo ricordi di viaggio la letteratura per noi è un biglietto di prima classe oggi quarta puntata un angolo di eternità andiamo a roma con carlo emilio gadda qui giace uno il cui nome fu scritto nell'acqua l'epitaffio è sulla tomba di john keats poeta romantico inglese morto a roma a poco più di 25 anni nel 1821 intorno ecco il cimitero acattolico di testaccio meglio noto come il cimitero degli inglesi per i meno pratici siamo a roma tra porta san paolo e la piramide cestia con questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del tevere ai turchini monti del lazio lo possiamo confessare abbiamo tolto le parole di bocca a pierpaolo pasolini facciamo un giro per questo cimitero che pasolini ha descritto come un buio giardino straniero in un fazzoletto di terra dove troviamo tanti nomi antonio gramsci e le sue ceneri il naufrago shelly i tormenti di amelia rosselli e di dario bellezza grandi poeti del novecento e poi ancora emilio lussu e da qualche mese andrea camilleri e infine ricordato dalla lapide come geniale e studioso artista dalle forti passioni civili e morali signore della prosa ecco finalmente carlo emilio gadda l'ingegnere in blu il gran lombardo il figlio della brianza lo zio di tanti nipotini intellettualmente riconoscenti alberto arbasino ne ha scritto bene e molto quasi laureato in filosofia con una tesi su leibniz tutta una vita alle prese con le disarmonie prestabilite la testa si sa a milano tra i complessi e le nevrosi di una borghesia operosa eppure irrimediabilmente provinciale dove si pongono le condizioni e le cognizioni del dolore il più grande di tutti il lutto per il fratello morto nella grande guerra la vita sospesa tra i due mondi dal sud america al vaticano il corpo infine a roma patria di adozione casa degli ultimi anni tana e musa roma eterna roma sonnacchiosa roma per gadda è anche il progetto di un documentario radiofonico sul tevere per il terzo programma rai mai venuto alla luce roma è il soborgo è l'ombra di monte mario via bernardo blumenstil qualche decina di passi più in là ci sarà il teatro dell'eccidio di via fani il 16 marzo del 1978 roma eterna roma sonnacchiosa ma anche roma violenta la cronaca in questa roma violenta prima di tutto la suggestione di un ritaglio di giornale dal fattaccio al pasticciaccio il passo è breve e la trama si infittisce agli albori un caso di nera l'omicidio della signora angela barruca moglie dell'ingegner belli piazza vittorio centro di roma la trovano morta nel suo appartamento siamo nell'ottobre del 1945 la gola è squarciata da un coltello da macellaio la vestaglia alzata fino alla vita a colpire lo si saprà quasi subito due giovani sorelle di colle ferro arrivano da fuori roma due che dalla vittima hanno ricevuto solo favori e aiuti l'amico e giornalista giorgio zampa passa la notizia a carlo emilio gadda è il pretesto per immaginare un racconto poliziesco il torbido e il mistero tra i rioni e squilino e monti si comincia con 50 cartelle di febbrile documentazione giornalistica che diventano 40 pagine di racconto che fioriscono in un romanzo che in costruzione ha già sfondato le 160 pagine si tratta lo sappiamo del cantiere più celebre della letteratura italiana con 11 anni dal 46 al 57 di faticosa gestazione tra le puntate uscite sulla rivista letteratura le riscritture le revisioni i litigi con l'editore garzanti la mediazione affettuosa di attilio bertolucci e infine il caso editoriale del 1957 lo scrittore dimenticato l'inattuale per eccellenza carlo emilio gadda diventa il nome dell'anno quel pasticciaccio brutto de via merulana diventa il romanzo forse perfino del trentennio sulla soglia della modesta casa gadda in una periferia che in questo scorcio di anni 50 è ancora una campagna fioccano le interviste le curiosità l'occhio puntato sulle abitudini di questo scriveranno personaggio di canziano prestato alla collina romana esperimento linguistico capolavoro dell'imbroglio e dell'incompiuto sul pasticciaccio è stato detto e scritto praticamente tutto nelle strade e piazze di Roma che vivono prendiamo a prestito le parole del narratore carlo emilio gadda le piazze di Roma che vivono di un fascino un imperio tutto latino e sabellico con i nomi antichi d'antiche vergini guerriere e latine o di mogli non reluttanti già tolte a forza nella sagra lupercale con l'idea dei colli e delle vigne e degli scabri palazzi e con le sagre e col papa in carrozza e coi bei moccoloni di sant'agnese in agone e di santa maria in porta paradisi alla candelora alla benedizione dei ceri un senso d'aria dei giorni sereni e lontani tra frascatano e tiburtino soffiata alle ragazze del pinelli tra le rovine del piranesi vigendo le efemeridi e calendari della chiesa e nella vivida lor porpora tutti gli altri suoi principi come stupende aragoste i principi di santa romana chiesa apostolica ed ecco come per gadda Roma brulica di un'insofferenza impiegatizia è ministeriale è mondana è puttana e nevrotica dal commissariato di santo stefano del capo l'esprit de geometrie del canovaccio poliziesco si piega al flusso vociante al gomitolo delle testimonianze al labirinto e alla lungaggine palatina e papalina l'ombra carnevalesca del potere il ridicolo del regime corre l'anno di fantasia 1927 si sa comanda lui con la l maiuscola sono in realtà la controfigura di un'italia attovagliata e unta cullata dentro un'epica da inviti a pranzo e fughe in campagna l'eroe del nostro tempo è molisano e si chiama ciccio in gravallo di lui basterà ricordare i bernoccoli metafisici qui dentro l'arcaico è il nuovo contemporaneo più che di latino l'orizzonte di gadda sa di italico osco umbro sannitico melting pot anacronistico su cui allungano le mani potenze luminose pronte a saltar fuori dalle sudice portinerie come dalle grotte delle sibille a roma il cammino più breve è la divagazione la verità si rivela nel vaticinio nell'ambiguità ma soprattutto nella frase lasciata a mezzo come un libro lasciato a metà ignobile plebaglia così rincompensate i sacrifici fatti per voi ritirate dimostratevi uomini e domani per favore mi lasci nell'ombra è la preghiera dell'uomo schivo che abita dentro lo scrittore carlo emilio gadda a un giornalista confida sono anni che non torno a milano ma sette ore di treno sono molte per un uomo come me dovrei decidermi a un trasloco però non è facile infatti aggiungiamo noi questo trasloco non sa da fare e non savrà da fare finché dureranno l'opere entro il severo perdurare del nome fino a che l'artefice il tutore d'ogni ponte nel rito dell'anno ascenderà il campidoglio con la silente vestale roma eterna roma sonnacchiosa roma ultima e definitiva casa per carlo emilio gadda uno dei figli più illustri della civiltà letteraria lombarda il nord e la capitale che miracolosamente si incontrano nel più grande di tutti gli scrittori del nostro novecento per tutti gli spacciatori di libri ancora una volta l'appuntamento per un'altra passeggiata nelle grandi città raccontate dai grandi scrittori è ancora a giovedì prossimo